Ciao a tutti! Prima di cominciare voglio dire che per essere sponsorizzati dovete iscrivervi, lasciare like e commentare con l'hashtag sponsorizzami un'altra cosa e di rimanere attivo al canale. E ora, buona visione! Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Anna e oggi siamo subito le sponsorizzazioni, scusate se... Faccio molti video di sponsorizzazioni ma non ho tempo perché infatti tra poco devo andare anche via, tipo verso le 6, quindi devo fare dei video corti. E scusate anche per se ieri il video è uscito molto tardi ma anche lì ho avuto da fare tutto il giorno, quindi la sera sono riuscita a caricarlo solo la sera. Comunque oggi per primo sponsorizzerò Ciao Ciao Ino, che ha 142 iscritti e mi iscrivo anch'io. Ha fatto video su Buon Natale, anche lui fa sponsorizzazioni, ha fatto video su Minecraft, eccetera. Poi... 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 Spagare trovo qualcuno... Ecco... Il Gatto e la Volpe, che ha 265 iscritti, mi iscrivo anch'io. Che ha fatto video... La Papera del Mese, Minecraft, Redisense Evil, Nintendo Switch, eccetera. Poi... Poi... The Brothers, che ha 21 iscritti e ha fatto 3 video. Skiffidol Challenge, Whisper Challenge e una presentazione del canale. Poi... Poi... Arsahar, Aristide, Colussi, che ha 589 iscritti e ha fatto video su... Screen dell'amicizia, It's My Life, Freddure a Caldo, eccetera. Poi... The Wolf, che ha 120 iscritti, mi iscrivo anch'io. Ha fatto video su... Fa video su Minecraft, Clash Royale, Clash of Clans, eccetera. E... Un'altra cosa... Poi... Mattia Ita, che ha 38 iscritti e 39 con me. E... Ha fatto video su Minecraft, Intro, Turbo Dismount, Fall Out, eccetera. Poi... Vabbè... Lui l'ha già sponsorizzato il video quello lì. Ehm... Poi... MicTV, che ha 358 iscritti. Ho fatto video su... Hillcrime Rancing, Genitore Pazzo Distrugge la Console. Ehm... Skin... Clash Royale. Ehm... Speciale 150 iscritti. Ma soprattutto Clash Royale. Poooooooi... Vediamo se questa me l'ha chiesto, no? Ok, nessun altro. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto iscrivetevi, lasciate like e commentate. e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao. Ciao